Musica Nuova bandiera arancione del Touring Club Italiano in Valle Seriana, tocca a Castione della Presolana ricevere il prestigioso riconoscimento a livello turistico ambientale, dopo le precedenti assegnazioni a Clusone e Gromo. L'Istituto Fantoni di Clusone e l'Alta Valle Seriana raccontato attraverso un lungometraggio, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura e da quello dell'Istruzione. La Basilica di Alzano Lombardo compirà mille anni nel 2023. Una lunga serie di eventi verranno organizzati il prossimo anno per uno dei luoghi più affascinanti a livello artistico dell'intera provincia. Buonasera a tutti i telespettatori ed eccoci con una nuova edizione del Tg di Antenna 2. Apriamo con la cronaca. Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale in mattinata lungo la statale 469 Sebina Occidentale. È successo poco dopo le 6.30 nel territorio di Parzanica. I giovani, entrambi ventenni, erano a bordo di un veicolo che è uscito di strada ed è andato a sbattere. Per i soccorsi, l'Areo ha inviato sul posto due ambulanze dalla Santa Maria Assunta di Pisogne e dei volontari di Sarnico. Dopo le prime cure, i due giovani sono stati trasportati all'ospedale di Esine, entrambi in codice giallo. Indagini in corso ad Albino dopo un episodio avvenuto lo scorso sabato attorno alle 23.30 all'esterno di un locale in via provinciale. Una ragazza senegalese di 20 anni, lunedì sera si è presentata ai carabinieri di Albino per sporgere denuncia. Ha raccontato di essere stata insultata con frasi razziste e poi aggredita da un ragazzo italiano tra i 25 e i 35 anni. Dopo gli insulti, la situazione sarebbe degenerata e, secondo il racconto della ragazza, il giovane l'avrebbe colpita con un pugno al naso allo stomaco, tentando infine di accoltellarla, ferendola superficialmente all'aldome. La giovane si è recata in ospedale da Zanolombardo nella mattinata di domenica. Sul caso, indagano i carabinieri della compagnia di Clusone, guidati dal Maggiore Daniele Falcucci. Cambiamo argomento, dopo Clusone e Gromi in Valle Seriana, arriva una nuova bandiera arancione del Touring Club Italiano. La bandiera arancione assegnata a soli 270 comuni italiani è un prestigioso riconoscimento a livello turistico e ambientale conferito alle località che si distinguono per un'offerta di eccellenza e di qualità. Castione della Presolana è bandiera arancione del Touring Club Italiano. Un risultato prestigioso. Che cosa rappresenta per voi? Sicuramente un ottimo risultato per il comune di Castione della Presolana. Abbiamo ricevuto questo prestigioso riconoscimento dal Touring Club Italiano, un riconoscimento al quale tenevamo molto ed oggi finalmente è arrivata l'ufficialità di questo importante risultato. Un percorso che è iniziato già dall'inizio di questa amministrazione comunale. Sì, era uno degli obiettivi che avevamo fin dall'inizio, quindi un percorso che è iniziato circa un anno fa con il reperimento e la raccolta delle informazioni e dei dati che ci sono stati richiesti da Touring Club Italiano a cui è seguita una richiesta generale di integrazioni e anche un'uscita da parte degli ispettori di Touring Club presso il territorio in incognito per valutare effettivamente i dati che abbiamo fornito. Perché vi è stata assegnata la bandiera arancione? Quali sono le motivazioni? Proprio oggi è arrivata l'ufficialità di questo riconoscimento con le motivazioni. Questa bandiera arancione ci è stata assegnata, secondo Touring Club, per il contesto naturalistico nel quale è inserita la località di Castione della Presolana, l'efficienza del nostro ufficio turistico, quindi Visit Presolana e l'eccellenza delle attività commerciali ed economiche del nostro territorio. Perché avete lavorato per questo risultato? Che cosa rappresenta per voi la bandiera arancione? Perché ci tenevate particolarmente? Ritenevamo giusto e coerente nell'ottica del futuro di Castione della Presolana poter partecipare a questo progetto ed inviare la manifestazione di interesse nell'ambito veramente di un futuro, di un progetto molto ampio che abbiamo in mente per il turismo di Castione della Presolana, quindi era un obiettivo al quale tenevamo particolarmente. C'è poi da sottolineare che la bandiera arancione non arriva una volta per sempre, bisogna poi meritarsela a scadenze regolari. Sì, è così, è stato sicuramente un bello obiettivo da raggiungere, ma questo deve essere solo un punto di partenza per il turismo a Castione della Presolana. Il nostro obiettivo è quello di implementare sempre di più la nostra offerta turistica e la qualità dei servizi che offriamo. E passiamo a Fiorano al Serio, dove si resta in attesa di Anas per la realizzazione del nuovo ponte che collega a Casnigo, passando sopra la superstrada 671. Nel frattempo, l'amministrazione locale investe sulle strade del paese con 100.000 euro per i nuovi asfalti, realizzati anche in orari notturni. Ecco, un problema che vi riguarda ormai da qualche annetto, questo ponte che è sopra la superstrada 671. Ecco, che novità ci sono? Un aggiornamento sull'opera. Abbiamo appreso recentemente da Anas, prima dai giornali e poi tramite una comunicazione, che bene, il ponte verrà sostituito e non più riparato. Certo è che questo provocherà dei ritardi. Su questo però noi non possiamo fare altrimenti, se non tenerci costantemente in contatto e favorire la velocità delle operazioni, in quanto l'intervento sarà di Anas. Oltre il ponte avete investito soldi negli ultimi asfalti, anche con un esperimento che non è usuale, l'asfaltatura notturna. Sì, esatto. Per quanto riguarda la via Tosi Albini, essendo una via molto frequentata, abbiamo pensato di adottare il sistema delle asfaltature notturne, che probabilmente si può creare qualche disagio in più, ma essendo un periodo invernale o comunque autunnale, dovrebbe creare meno disturbi in senso di rumore e dovrebbe migliorare quello che è il disagio per quanto riguarda il traffico. Insomma, abbiamo già visto esperienze passate sulla chiusura di quei tratti di strada, le code che ha provocato, quindi stiamo cercando di trovare delle soluzioni per migliorare quella che è la condizione stradale, non creando troppo disagio. Oltre a questo rifaremo a breve anche la pavimentazione del parcheggio antistante, il parcheggio di Piazza San Giorgio, con una pavimentazione più idonea al transito di veicoli e un rifacimento della segnaletica stradale. Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 30.000 euro e insieme a tutti gli altri interventi di asfaltatura ammonta il totale a 100.000 euro, che è l'investimento che quest'anno abbiamo destinato per questo genere di opere. Dopo la polemica sollevata dal segretario della Lenga Nord di Gazzaniga Alberto Ongaro sull'affollamento presente sulla linea Teb Albino Bergamo e delle poche corse per i pendolari della Valle Seriana, Teb precisa che la terza banchina in città ha consentito dal settembre 2020 di aumentare il numero delle corse con tram in partenza ogni 5 minuti nell'ora di punta scolastica, favorendo così una migliore distribuzione dei passeggeri a bordo del tram e alla fermata del Capolinea Bergamo FS. Passiamo a Clusone, un film racconterà l'Istituto Fantoni e l'Alta Valle Seriana. La scuola ha infatti centrato un bando del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione che permetterà di realizzare il progetto. Nel frattempo alle porte c'è il primo Open Day. Siamo all'Istituto Fantoni di Clusone che tra pochi giorni inizia il suo programma di Open Day. Ci avviciniamo al primo appuntamento con una bella notizia che è arrivata proprio in questi giorni ma lasciamo alla dirigente scolastica spiegare di cosa si tratta. Sì, grazie. La notizia è questo bando al quale abbiamo partecipato, un bando nazionale, Bando Cinema per la Scuola e l'Istituto Fantoni ha ottenuto un finanziamento molto significativo che è nato da un lavoro di collaborazione attivato con i comuni, ben 19 comuni del nostro ambito hanno sostenuto questo progetto e 5 associazioni del territorio. Quindi abbiamo costruito il progetto insieme a un partner scientifico esterno, l'abbiamo presentato, era un bando del Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione e quindi durante questo anno scolastico ci sarà questo lavoro che ha un interesse didattico per i nostri studenti, il target degli studenti e degli studenti delle classi quarte e ci sarà anche un prodotto che verrà realizzato nel frattempo, quindi un lungometraggio che aiuterà tutti noi a godere insomma delle potenzialità del nostro territorio attraverso un racconto che si farà, una narrazione attraverso gli studenti del Fantoni andremo anche a conoscere e a far conoscere alle altre persone tutte le meraviglie del nostro territorio. Abbiamo iniziato parlando di Open Day e quindi spieghiamo come si è organizzata la scuola per questi appuntamenti che non sono gli unici, nel senso non ci sono solo le porte aperte del Fantoni ma anche il Fantoni che va nelle altre scuole a raccontarsi, a farsi conoscere. Sì è così, la nostra commissione orientamento con la funzione strumentale che la professoressa Maria Lombardo ha lavorato in questi mesi per organizzare l'orientamento sia accogliendo le famiglie all'interno del Fantoni, mi ricordo rapidamente le date 12 novembre, 10 dicembre e 14 gennaio con prenotazione obbligatoria tramite il nostro sito. Il prossimo appuntamento di sabato 12 novembre è già full, abbiamo tutte le prenotazioni occupate anche quello di dicembre è quasi al limite delle prenotazioni, qualche posto c'è ancora e ci sono alcuni posti a gennaio. Per ogni appuntamento abbiamo due turni di intervento e quindi apriamo le porte della nostra scuola alle famiglie e ai ragazzi che vorranno parteciparvi. Contemporaneamente i nostri professori andranno insieme ad alcuni studenti nelle scuole del territorio per presentarci agli studenti delle scuole e poi c'è il consueto appuntamento di apertura della scuola agli studenti che vorranno fare un'esperienza di scuola presso il Fantoni e gli studenti delle scuole medie con i cosiddetti micro inserimenti. Quindi ci sarà tutto un calendario ad hoc per accogliere per una mattinata i ragazzi che vorranno nel Fantoni, nelle classi del Fantoni e vivranno la vita della nostra scuola per una mattinata e per la nostra esperienza vediamo che è sempre un bel momento perché magari i ragazzi sicuramente possono avere dei dubbi o devono capire un po' meglio se la scuola che scelgono è quella giusta per loro e quindi cerchiamo di aiutarli anche in questa direzione. E torniamo su un argomento che ci riguarda tutti da vicino, l'aumento dei costi dell'energia elettrica colpisce anche gli oratori della nostra provincia. A Gandino sono stati investiti 10.000 euro per il posizionamento di luce più performanti su un campetto da calcio e sulla chiesa dell'oratorio. Un momento complicato dal punto di vista delle bollette dei consumi energetici per tutti anche per un oratorio e siamo in quello di Gandino che ha preso delle scelte importanti da questo punto di vista. Allora sì, sicuramente tutti, famiglie, oratori e parrocchie sono un po' su una stessa barca nel quale i costi aumentano e allora abbiamo già in previsione di rifare alcune luci dentro l'oratorio e in particolare della chiesina che a fronte di un'usura erano saltate. Allora abbiamo progettato di rifarle con una dita della Val Gandino per risparmiare e nello stesso tempo già che c'eravamo abbiamo reinserito, risistemato tutte le luci del campetto piccolo che abbiamo in oratorio, che è quello che usano di più tutte le sere, dalle 5 e mezza, poi dopo cena vengono accese queste luci e se prima quattro fari illuminavano il campetto ora solo due illuminano il campetto ma fanno il doppio della luce e il doppio del risparmio. Così come anche le luci della chiesina, se prima ci volevano quattro fari per illuminare una zona adesso ne basta uno che fa per quattro e consuma molto meno, anzi consuma un quarto di quelli vecchi. Ecco questo è un po' per far fronte a tutte le bollette e nello stesso tempo con un gruppo di volontari stiamo completando la messa online, diciamo così, di tutto il sistema di riscaldamento per il quale da un'applicazione che loro, i volontari hanno creato, si può accendere o spegnere le aule consentendo un risparmio consistente, un consistente risparmio. Una piccola spesa per arrivare appunto a un risparmio anche importante per gli ultimi interventi che avete fatto? Sì, una piccola spesa, sono comunque cifre 10.000 euro, un po' in generale con tutte le diverse cose che non è proprio una piccola spesa però è a fronte di un lungo tempo, è a fronte di un investire su alcune cose che ci permetteranno di risparmiare nei prossimi anni. Certo non si ha il risparmio subito, al momento, ma nel giro di anni e anni questa cosa porterà a risparmiare e anche avere una cosa ottimizzata e a norma di legge. Soprattutto in una struttura come questa che appunto ha due campi, un teatro, c'è un bel oratorio di quelli belli rimasti in provincia di Berga. Sì, è un bel oratorio che fortunatamente nei suoi 16 anni non ha particolari risistemazioni, non dobbiamo fare particolari restauri se non forse il campo da calcio che c'è un'idea di poterlo ristrutturare, rifare nei prossimi anni, sempre però nell'ottica nel dire nei prossimi anni servirà, sì lo rifacciamo, può essere, allora lo cerchiamo di fare il più ottimizzato possibile, anche dal punto di vista economico e ecologico. Quanti ragazzi girano in quest'area? Quante squadre? Allora, come squadre di calcio non sono tante perché noi come oratori abbiamo fatto la scelta di avere un'unica squadra come tutti gli oratori della Val Gandino, perciò sono 4-5 squadre che girano nei diversi oratori o che comunque da poi da gennaio incominceranno a girare bene nei diversi oratori, perché poi le medie le hanno, le abbiamo affidate, diciamo così, alle altre squadre dei paesi della Val Gandino. Perciò un numero di ragazzi consistenti a catechismo girano 140 bambini per, anzi 160 bambini per elementari e medie, adolescenti ne abbiamo altrettanto. Perciò è un oratorio fortunatamente ben avviato, frutto anche del lavoro dei predecessori e di tanti volontari che si mettono entusiasmo e impegno. E sarà un 2023 particolare per Alzano Lombardo. La Basilica dedicata a San Martino compie mille anni e festeggia anche il centesimo di elevazione a Basilica. A pochi giorni dalla festa del patrono siamo andati a conoscere da vicino le meraviglie che nasconde. Buonasera a tutti, siamo nella Basilica di San Martino ad Alzano Lombardo. Io sono Riccardo Panigada, rettore e conservatore del Museo San Martino, che si interessa appunto di ciò che riguarda la Basilica. Basilica appunto, cent'anni fa venne elevata a questo rango la Chiesa di San Martino che proprio l'anno prossimo compie mille anni. Ma per noi la data più significativa è il 1575. È in quell'anno che San Carlo Borromeo venne ad Alzano e trovò la nostra Chiesa, avveniva sempre così, non confacente ai nuovi dettami della controriforma. Bisognerà attendere circa un secolo e con un importante lascito, quello di un ricchissimo mercante, Nicolo Valle, si darà il via alla costruzione del nuovo edificio, quella che oggi conosciamo appunto come la Basilica di San Martino. Nel giro di alcuni decenni la Basilica, la Cappella del Rosario, le tre sagrestie vennero realizzate su progetto di Gerolamo Quadrio. Beh, un architetto importante dell'epoca, basterebbe dire che questo architetto, uno dei massimi architetti del barocco lombardo, era allora sovraintendente del Duomo di Milano. Perché con questo importante lascito, gli alzanesi poterono utilizzare le migliori maestranze dell'epoca. dagli stucchi, che vediamo appunto nel soffitto, opera di quella bottega dei Sala, che stava operando in Santa Maria Maggiore a Bergamo, ai migliori artisti della pittura veneziana dell'epoca. Basterebbe citare Piazzetta o Cignaroli, fra gli altri. Tutto qui parla il linguaggio del barocco, un linguaggio che deve suscitare nell'osservatore stupore, meraviglia, che diciamo così deve lasciare a bocca aperta, ma che poi deve, dietro questa ridondanza di immagini, presentare un messaggio, una ben precisa iconografia, una serie di allegorie, di simboli, che servono a confermare nella fede. 2022-2023, anni particolarmente importanti per il Museo d'Arte Sacra San Martino e per la Basilica di San Martino ad Alzano. Perché nel 2023 cade il centenario, appunto, dell'elevazione a Basilica della nostra chiesa di San Martino. Non solo. stando un'incisione riportata sulla facciata, il 2023 è l'anno in cui venne realizzato un primo semplice saccello dedicato al Santo di Turo. Il 2023 è un anno importante per tutta la comunità di Alzano, anche civile, perché nell'anno in cui si ricorda Bergamo-Brescia, capitale della cultura, tutta una serie di iniziative che vedranno, appunto, anche il Museo, una serie di iniziative che, visto, appunto, lo scopo, partiranno da una serie di celebrazioni liturgiche e che vedranno, poi, una serie di incontri dedicati al tentativo di scoprire meglio quello che è la Basilica, quello che è stato il suo formarsi nel tempo, coloro, appunto, che hanno contribuito alla realizzazione delle opere d'arte. Passiamo, infine, allo sport, stasera su Antenna 2, una nuova puntata di Antenna 2 Sport. Scopriamo di cosa si parlerà. Come ogni martedì sera torna l'appuntamento sportivo con Antenna 2 Sport. A parte alle 21.30 il nostro salotto si riempirà di ospiti e inizieremo aprendo le porte a Mario Poletti e la sua fly-up. Tempo di bilanci di quella che è questa stagione, di quella che è stata tra i trail molto alto, ma chiaramente lanceremo anche gli eventi del 2023. Poi, porte aperte anche per Emanuele Verzeroli, lui è campione europeo di Enduro 125, lo si è laureato proprio la scorsa settimana a Budapest in Ungheria. Ci parlerà di quella che è stata la sua stagione agonistica, ma chiaramente del futuro che lo porterà anche al Mondiale in chiusura. Ospiteremo Giovanni Bettineschi perché per lui è tempo di compleanni, compleanni speciali, soprattutto per la promo Eventi Sport che proprio quest'anno compie 20 anni di attività, 20 anni di eventi che andranno celebrati chiaramente con una tappa del Giro d'Italia, quella che parlerà chiaramente Bergamasco. Questo e tanto altro all'interno della nostra trasmissione, qui alle 21.30 sul Canale 84. E passiamo ai programmi della serata di Antenna 2, alle 20 eventi semplice età, programma sulle tutele individuali, alle 20.40 il sasso nello stagno, alle 21.30 Antenna 2 Sport, alle 22.30 la seconda edizione del TG di Antenna 2, alle 23.05 il programma sul campionato di calcio di serie D a tutta D, alle 23.40 tempi supplementari, ed infine a luna la terza edizione del TG di Antenna 2. L'almanacco del giorno domani, mercoledì 9 novembre, il sole sorge alle 7.07 e tramonta alle 17.01. La luna è piena, sorge alle 17.22 e tramonta alle 9.24 del giorno successivo. La chiesa ricorda la dedicazione della Basilica lateranense. Con questo è tutto, dopo il TG andrà in onda a TG Sport, a tutti voi una buona serata. a TG Sport.